Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligori. In questo video parliamo di un tremendo incidente avvenuto a Roma. Nella giornata di oggi un drammatico sinistro che ha visto un autobus di linea Atac schiantarsi contro delle automobili. L'incidente è avvenuto in zona AXA Malafede, per la precisione, in via Edoardo Gioia, come detto, dopo le 13.00. Molto probabilmente il conducente del mezzo, a seguito di un malore, ha perso il controllo e, come detto, è finito contro delle automobili. La buona notizia è che non risultano vittime, ma alcuni passeggeri hanno avuto bisogno di cure mediche. Si ha la sensazione che poteva finire molto peggio. Amici di YouTube, vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul primo anno di Marco Liguri, il canale principale sul nuovissimo canale di psicologia, Marco Liguri, psicologia e crescita personale. Ciao!